Adesso parliamo di teatro, prima tappa ieri nel parco di Villa Manin della trentesima edizione dell'Ecole des Metres, il corso internazionale itinerante di perfezionamento teatrale guidato quest'anno dal regista e drammaturgo argentino Claudio Tolcaciri. In questo primo appuntamento è stato presentato il primo studio sviluppato dal maestro Tolcaciri assieme a 16 attrici e attori europei provenienti da Italia, Belgio, Francia e Portogallo e agli assistenti Ugo Samech e Nicoletta Oscuro. Il corso prosegue ora con nuove fasi di lavoro e di presentazioni sempre aperte al pubblico a Liegi, Lisbona, Coimbra, Milano, il 21 settembre sarà il Piccolo Teatro e anche in Francia. Da trent'anni capofila del progetto teatrale e storico partner è il CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo dell'Ecole des Metres è dare vita a un'esperienza di lavoro finalizzata alla formazione dell'attore performer europeo attraverso confronti e scambi di competenze sui metodi e le pratiche di messa in scena partendo da testi, lingue e linguaggi artistici differenti.